Buongiorno, buongiorno amici telespettatori, buon martedì a tutti e soprattutto buone feste già dal principio, dall'inizio della trasmissione, sarà sempre e comunque in questo periodo un modo per scambiarci il dono degli auguri perché farsi gli auguri è anche un dono, diciamo la verità. Bentrovati da Domenico Milani, anche oggi avremo tante sorprese ma soprattutto tanta musica. Siamo la linea subito a Sonia Di Stefano, ci parlerà di Gris, continuiamo a sognare in nome dei miti di un tempo. Prego. Ciao Domenico, buongiorno da Catania, a te e telespettatori dell'Italia del Sud. Oggi mi trovo davanti al Metropolitan, famoso teatro di Catania che accoglie diverse compagnie per parlarvi di un musical di grande successo, anzi un successo sempre eterno che è quello di Gris. Gris prodotto e realizzato dalla Compagnia dell'Arancia per la regia di Saverio Marconi. Musical, le cui musiche fanno ballare e innamorare generazioni e di nuovo anche qui a Catania. Vediamo dunque alcuni momenti di Gris con i suoi straordinari e indimenticabili personaggi, le sue musiche e le sue danze. Alla fine di questa clip restituisco la linea allo studio. Ho conosciuto una ragazza. Ho conosciuto un ragazzo, Danny Zuko. Sandy! Sandy! Questa macchina correrà come un bambino. La chiamerò Gris-like. Sandy, tu mi piaci tanto. Ti cerco io sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre. Ti cerco io sempre, per sempre, per sempre, per sempre. Eh vabbè, le coreografie diciamo che pur perché chi non balla, vederle, in qualche modo ce l'hai dentro, come se le avessi ballate almeno una volta.